ti piace cantare e stare in compagnia l'associazione culturale musicale città di san vincenzo è il posto giusto per te sono aperta anche quest'anno nel 2022 le audizioni per entrare a far parte della porale città di san vincenzo le informazioni le potete trovare tramite i nostri stand promo oppure qua sotto iscriviti al canale